Leggi che merda, lui dice che bisogna fidarsi Non pensavo che ti interessasse così l'Afghanistan Ma poi l'Afghanistan, guarda le pagine locali Chi c'è la terza fila? Bruni, con la moglie Beh? Come beh? Tu andresti dal capo della polizia con la moglie dalla quale ti sei appena separato a fare festa? Io non andrei con una moglie ma... Non mi diri che sei gelosa? Ma la gelosia non c'entra un cazzo Scusi il francese, è che io odio i contaballe Come questi qua, questi qua in prima pagina, guarda Missione di pace E ti sembra che la pace la fai con i soldati Ma lo sai come si chiamano questi? Ipocriti! Giorgia, ti presento il generale Maningri Mi c'è la canzone? Buongiorno